... Anche quest'anno stiamo rappresentando questa bella edizione della Calata dei Magi, un po' condizionata dal gelo, abbiamo dovuto anticipare un po' l'orario della Sacra Rappresentazione, però l'impegno degli attori sicuramente vale la pena esserci qui anche se non siamo tantissimi. È un momento commovente perché il testo che gli attori interpretano è un testo molto delicato, è un testo che aiuta anche a riflettere sul mistero della nascita di Gesù e soprattutto sul cammino che fanno i Magi per andare a trovare Gesù e dare i suoi doni. È un po' il cammino che viene proposto ad ogni uomo che cerca la luce e la verità nella sua vita.